La camorra, il contrabbando, mi fa paura. No, Lino, le cose che non sappiamo ci fanno paura. Vuoi venire a festeggiare dopo da una casa mia? Io lì ci stambi da una casa. Tu lo puoi chiedere a voi ci margessi e non sa tutt'ora una lì. Vuolimmi restare sempre così? O vuolimmi andare? Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info